Tra poco Sul canale 17 di Fanno TV, l'informazione locale Ristoranti date le fiamme proseguono le indagini della polizia Nel fine settimana molti negozi del centro interessati da una raffica di furti Il sindaco seri dichiara guerra alla regione Se non si tornerà a votare in modo chiaro sul sito del nuovo ospedale Si aprirà una frattura istituzionale grave tra la città e la regione A San Costanzo tecnici del gas scavano nel terreno E trovano due grossi ordigni bellici della seconda guerra mondiale Poste italiane emette un nuovo francobollo Dedicato all'opera dello scultore greco Lisippo Si chiamerà l'atleta di Fanno Rinnovate le cariche della proloco di Fanno Confermato l'attuale presidente T.A. Lucarelli Con tutto il direttivo questa mattina presentate le iniziative di Natale Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Buonasera e benvenuti a tutti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17 di Fanno TV Per gli esercenti del centro storico di Fanno sono giorni difficili Dopo gli incendi che hanno interessato due ristoranti Vedremo tra poco le ultimissime Nel fine settimana di notte molti negozi sono stati visitati dai ladri Ha ricostruito tutto per noi Lino Balestra Il centro storico di Fanno Sabato mattina tra le 5 e le 8 sembrava una scatola di cerini Ad accendersi e bruciare per cause dolose sono due locali vicini tra loro La Bella Napoli e il Tiravino Si respirava un'aria pesante Non solo per le esalazioni o l'odore acre e pungente che ti prendeva alla gola Tipico dei luoghi aggrediti dalle fiamme L'aria era resa pesante soprattutto dalle sensazioni di smarrimento e incredulità Che titolari di negozi e residenti stavano provando Sottolineate dagli sguardi, dalle espressioni, dai sussurri a mezza voce Emblematiche le parole di un agente sul posto In tanti anni di servizio a Fanno non ho mai visto nulla del genere Autopompe dei vigili del fuoco in azione Acqua, maschere, respiratori, zona transennata, fumo, lampeggianti della polizia Gente per strada che chiedeva ai poliziotti che cosa stesse accadendo Sembrava una zona di guerra Ma erano due locali nel raggio di 500 metri Andati a fuoco nel giro di poche ore La prima chiamata ai vigili del fuoco di Fanno Arriva alle 5.40 del mattino Ed andare a fuoco è la veranda del ristorante della Bella Napoli Dopo che i gnoti hanno forzato una delle verande scorrevoli E si sono introdotti al suo interno E dopo aver portato via il fondo cassa Hanno appiccato il fuoco a tavoli e sedie Probabilmente utilizzando degli alcolici trovati lì nel bar A Fanno non esistono queste cose sinceramente Io penso che sia un qualcosa di una persona squilibrata Proprio non lo so cosa gli è preso Non lo so Mi auguro insomma che le forze dell'ordine Arrivino a conclusione Perché è una cosa assurda quella che è successo Io sono 36 anni che vivo qua in questo locale Mai successo una cosa di questo Non ho avuto problemi con tanta gente Nessuno, niente Avevo lasciato una parte dei soldi dell'incasso Tra un po' di fondo e un po' di quello E l'hanno portato via Tutto un casino insomma Danno 10.000 euro e tanto lavoro Per riaprire e ripartire Alle 7.50 arriva la seconda chiamata A prendere fuoco il ristorante Tiravino Ex Casanolfi Sotto un fabbricato nella centralissima Via Nolfi 250 metri in linea d'aria dal primo Qui le cose sembrano peggiori I locali sono completamente invasi dal fumo e dalla foligine Ad entrare sono soltanto i vigili del fuoco con le maschere e i respiratori E i punti di innesco sono due Uno in ufficio dove un cumulo di cartoni e carta fatto da innesco E l'altro una botte di legno vicino all'entrata Hanno picciato due incendi di cui uno ha preso la parte diciamo così davanti del ristorante in maniera abbastanza importante Soltanto che adesso noi abbiamo l'esigenza di riuscire ad entrare Capire i danni per dobbiamo ripartire Abbiamo dei dipendenti Noi stessi comunque abbiamo bisogno comunque di far funzionare il locale Perché già la crisi batte forte E se non riusciamo a rientrare diventa problematico Sul Tiravino e la bella Napoli la questura di Pesero Anche con l'ausilio della scientifica sta indagando a 360 gradi Ogni ipotesi è al vaglio degli inquirenti Nessuna esclusa Quello che è accaduto a Fano è un fatto gravissimo Sottolinea Pier Stefano Fiorelli Presidente della Confesercenti di Fano Molto grave sarebbe se fosse una bravata di fine serata Più grave ancora invece se Invece dovessero affacciarsi sulla scena altre ipotesi Riconducibili ad associazione delinquere Vogliamo sperare Dice ancora Fiorelli Che le forze dell'ordine facciano chiarezza in tempi molto brevi In modo che gli operatori possano al più presto Tornare a lavorare a pieno regime E con la tranquillità che ha sempre contraddistinto una cittadina come Fano Non vorremmo Continua il responsabile della Confesercenti Che per effetto di questi accadimenti si diffonda Tra esercenti e cittadini Quel senso di sicurezza che non è mai stato proprio di Fano La categoria degli operatori del turismo e della ristorazione è in ogni caso caparbia Lo dimostra il fatto che alla Bella Napoli Avendo subito indubbiamente meno danni del Tiravino Non si sono comunque persi d'animo E sabato sera erano già di nuovo operativi Dopo quello che è successo venerdì notte Un altro fine settimana però Da segnare con il pennarello nero Per alcuni operatori e alcuni commercianti del centro storico Che sono stati visitati dai ladri Nella serata, nella nottata tra sabato e domenica Dopo il fuoco le cavallette verrebbe da dire Dopo i due ristoranti dati alle fiamme nella notte di sabato Ladri a caccia di soldi in cinque negozi Tre dei quali però si trovano nella stessa zona degli incendi Via Garibaldi, centralissima Ad essere presi di mira dai ladri in negozi comuni Un calzolaio, un'agenzia viaggi, un bar E poi altri due negozi poco distanti Zona via Cavour La pizzeria Luca Ed un negozio di cartucce per stampanti E l'obiettivo è sempre lo stesso Il fondo cassa Pochi spiccioli e tanti danni Cosa le hanno portato via? Il fondo cassa C'erano solo monete perché per il resto non ci sono soldi Io ero preoccupato più che altro Se facevano danni come è successo alla bella Napoli Al tiravino Per fortuna si sono limitati a rubare Da dove sono entrati? Dalla porta Hanno aperto qui Non so se con un cacciavite o un piede di porco Nessuno ha sentito nulla Perché ovviamente sono professionisti Quando sono entrati? Ma so che fino all'uno e mezza Ci sono stati i carabinieri qua in cima alla via Quindi si presume intorno alle 4 o alle 5 di notte A noi fortunatamente niente Ci hanno solo scassinato la porta Quindi abbiamo avuto spese per sistemare la porta Hanno cercato dappertutto Forse cercavano soldi E non li hanno trovati Hanno portato via soltanto gli spicci Quelli più grossi Perché i 10 centesimi già non gli interessava più Quindi poca roba insomma Pochi, arriviamo a un centinaio di euro più o meno neanche No, molto meno Molto meno Eh sì Qui avevano a disposizione una marea di articoli In realtà eventuali Ma non hanno toccato niente No, evidentemente non c'è Ma a parte che penso che siano prodotti difficili da smerciare Perché ci vuole proprio un negozio specifico Però evidentemente interessano solo i soldi Moneta liquida Ma anche se i danni sono contenuti e allarme tra i commercianti della strada Senso di certezza e insicurezza che toglie il sonno Cosa troverò domattina aprendo il negozio? Chi sarà il prossimo ad essere derubato? Adesso lo stato d'animo qual è per riprendere il lavoro? Può capitare di peggio dai Finché sono spiccioli Dai Eh non lo so Che bisogna sempre lavorare Sempre però con l'angoscia Che comunque Lavori per che cosa? Non si sa mai Perché è diventato difficile andare avanti Anche per questo Per me il centro non è più sicuro Soprattutto da quando hanno iniziato con la Bella Napoli Tiravino Che è una cosa impossibile Non hanno paura di niente Eh ci sono tanti pensieri E' meglio non dirli Perché ci sono pensieri molto brutti Speriamo che si risolva il più presto Beh credo Credo che è evidentissimo Che siamo molto preoccupati comunque Ecco Già nel giro di un giorno e mezzo Due E' successo tante cose Insomma Non si viene con l'animo sereno? Assolutamente no Tutt'altro E adesso il tema della sanità Il tema dell'ospedale unico Massimo Seri Il sindaco di Fano Ha annunciato battaglia Battaglia fino all'ultimo Perché vuol sapere Soprattutto Quali sono i sindaci Che si sono schierati Contro L'idea di realizzare Un ospedale a Chiaruccia Che è sempre un'area pubblica Avete sentito Ve l'abbiamo già detto Più volte Ormai ha deciso Ceriscioli Che si costruirà Questo nuovo ospedale A Muraglia Dove già esiste una struttura Quindi verrà ampliata Ci racconta tutto Sempre Lino Balestra Sabato mattina Nell'assemblea dei sindaci Dell'area vasta 1 Che si è tenuta A Urbino Il punto all'ordine del giorno Che prevedeva come criterio Per la costruzione Della nuova struttura Da individuare In un'area pubblica È passato Con 32 sindaci favorevoli E 24 astenuti Una vittoria Per alcuni Vedi comitati Antifosso 6 ore Di fatto così Defenestrato D'Amblè E una possibilità Per altri Vedi Tagliolini E Co Dato che così Si rimetteva in sella Di fatto Muraglia Ma anche Il sito di Chiaruccia Cavallo di Battaglia Dell'accordata Seri Forte del consenso Quasi unanime Del Consiglio Comunale Si gioca A carte scoperte Quindi I sindaci Decideranno In una prossima assemblea Poi Nella giornata di ieri Una doccia fredda Per i pro Chiaruccia Ceriscioli Fa sapere In un comunicato Che dice Lapidario Il criterio Dell'area pubblica È decisivo Esclusa Fosso 6 ore L'area individuata È Muraglia Con questa scelta Si riducono i tempi Ma a questo gioco Seri E la sua giunta Non ci sta A raccolta di firme E si chiede una nuova assemblea Il criterio Di un quinto Dei partecipanti C'è Docia fredda Ancora una volta Hanno dimostrato Quella che era La reale intenzione Di un gruppo Di dirigenti Provinciali A partire Dal presente La regione Di qualche sindaco Cioè quello di fare L'ospedale A Muraglia E se fino ad oggi Questa cosa non è avvenuta È perché questo signore Che parla In questo momento Il sindaco di Fano Si è messo sempre Per traverso Beh in assemblea Di aria vasta Si è presa Una decisione La maggioranza Dei sindaci Ha definitivamente Detto no A Fosso Seore Ma ha detto Che la scelta Deve essere Verso un'area pubblica Quella scelta Non andava verso La scelta Del sito di Muraglia Dove ci sono Delle criticità Enormi Più alte Di quelle di Fosso Seore Addirittura Chi fa un ragionamento Di risparmio Dell'area pubblica Nel caso di Muraglia Spenderebbe molto di più Anche con l'esproprio Di un'area privata Perché ci sono Tutte una serie di criticità Dall'esondazione Dal terreno frannoso Dalla terra Dallo spazio Insufficiente Perché la regione parla Di almeno 20 etre Lì ce ne sono 17 Ma soprattutto Per queste caratteristiche Per la costruzione Sono necessarie Risorse aggiuntive Al presidente Gambini Cosa chiedete adesso? Beh io ho già inviato Con la sottoscrizione Di molte firme Di molti sindaci La riconvocazione Dell'assemblea di aria Basta Mi permetto anche Di rivolgere Un appello Anche all'opposizione In questo momento Visto che chiedevano Questo Siano a fianco Al sindaco Segnale Allora maggior ragione In questo momento Siamo uniti E se c'è bisogno Anche alla gente Dico Questa volta State al nostro fianco E aiutateci Se c'è bisogno Anche di fare qualche Iniziativa Forte di piazza C'è un intervento Del sindaco di Fano Oggi pomeriggio Su questo argomento L'annuncio Da parte di Ceriscioli Toglie ai sindaci La libertà E la responsabilità Anche di fronte Ai cittadini Di decidere La questione In maniera chiara Se non vi si pone Rimedio E si produce Se non vi si pone Rimedio Si produce Una frattura grave Dei rapporti Istituzionali Tra la regione E la città di Fano Tra la regione E i sindaci E tra la regione E i territori È una imposizione Dice ancora Massimo Serri Inaccettabile Cambiamo pagina Due ordigni Bellici Sono stati ritrovati Nel comune di San Costanzo Mentre alcuni operai Del gas Stavano effettuando Dei lavori Sulla Orcianese Venerdì pomeriggio Operai dell'Aset Stanno lavorando In un crocevia Sull'Orcianese È un punto di snodo Di intersezione Di diverse strade Ma ai tempi Della seconda guerra mondiale Doveva rappresentare Per i comandanti Delle truppe militari In caso di ritirata Un punto Da far saltare Per aria Per coprirsi La fuga E così Lo hanno minato Con due ordigni Di diverse centinaia Di chili Proprio Al centro Dell'incrocio Quelle tale Escamotage È rimasto lì Tutto questo tempo Fino a quando Venerdì Non ci si sono imbattuti Gli escavatori Dell'azienda Venerdì sera Dopo aver avvertito Prontamente i carabinieri È stato allertato Subito L'esercito Che ha messo In sicurezza La zona E stamattina Il genio di Bologna È venuto per circoscrivere L'area Sì al momento Sono due gli ordigni Che sono stati ritrovati Sono in questo momento In corso Sono qua insieme Con gli artificieri In costante contatto Con la prefettura Sono qua presenti Per quanto riguarda Le operazioni di messa in sicurezza E poi In un secondo momento Saranno programmate Le operazioni di bonifica Con tutti i relativi provvedimenti Che si renderanno necessari E che saranno decisi Nell'ambito di un tavolo tecnico Altre informazioni Al momento Se non che Ovviamente Il fatto del ritrovamento Di due ordigni E del fatto che siano Della seconda guerra mondiale È probabile che si tratti Di ordigni Ma adesso sono ancora Informazioni che diamo Prima che sia stata In qualche modo Redatta la relazione Da parte degli artificieri Quindi vanno prese con le pinze Potrebbe trattarsi Di ordigni legati Ad un blocco Ad un blocco stradale C'è un po' di apprensione Tra gli abitanti Qui ci sono molte case Qui attorno Adesso Più che apprensione Perché chiaramente Gli artificieri Sono al lavoro Quindi stanno effettuando Tutte le operazioni Per la messa in sicurezza C'è da un lato Una certa curiosità E dall'altro Anche Diciamo Una legittima preoccupazione Che però ovviamente Va tenuta Assolutamente in conto Ma tutto sommato Diciamo Ci possiamo Dichiarare tranquilli In quanto Come dico Si sta effettuando Proprio in questo momento Tutta l'operazione Per quanto riguarda La messa in sicurezza E poi successivamente Comunque verrà fatta La bonifica definitiva Quindi è chiaro Che non teniamo Degli ordini bellici Nel bel mezzo Della strada provinciale Insomma La notizia ora è ufficiale Il 25 novembre E prossimo Il Ministero dello Sviluppo Economico Emetterà un francobolo Dedicato all'Atleta di Fano Attribuito all'Isippo Insieme ad altri 5 francoboli Appartenenti alla Serie Il patrimonio artistico E culturale italiano Un francobolo potrebbe sembrare Cosa insignificante Scrive il sindaco Seri In realtà può essere Uno strumento molto efficace E capace di portare Il suo messaggio Anche negli angoli Più sperduti Della terra L'uscita di un francobolo Dedicato all'Isippo E motivo di grande soddisfazione Anche perché Questa emissione Sancisce ufficialmente Per noi E per lo Stato italiano Due punti importantissimi Il nome della statua E la sua appartenenza Al patrimonio artistico E culturale italiano La statua infatti Verrà chiamata L'Atleta di Fano E non con la dizione Di Getti Bronze Con la quale Indicato invece Nel Museo di Malibu Domenica pomeriggio Insieme hanno ripreso Subito a lavorare Presentando già Questa mattina L'iniziativa Il Natale più L'evento legato Alle prossime Festività natalizie Del quale Vi parleremo E vi renderemo conto Nell'edizione del telegiornale Di domani sera E adesso La linea va a Matteo Del Vecchio Per le notizie sportive Sì grazie Marco Come sempre È il calcio Ad aprire la pagina Dello sport Del lunedì Qui su Fano TV Con il campionato Di Lega Pro E l'Alma Juventus Fano Che seppur Non è riuscita A centrare La terza vittoria Consecutiva In campionato Sabato sera E uscita dal campo Tra gli applausi Dei propri tifosi Di fronte a oltre 1500 spettatori I ragazzi di Cusatis Hanno saputo Tenere testa Per l'intero arco Del match al Gubbio Corsaro al Mancini Per 2-0 Con due gol Segnati allo scadere Delle due frazioni Partita sostanzialmente Equilibrata nel primo tempo E sbloccata al 43esimo Da Casiraghi Abile a trasformare in gol L'assist di Ferretti A rientro dagli spogliatoi Il Fano va subito Vicino al pari Con Gualdi prima E Gucci poi Ma gli attaccanti Granata Peccano di imprecisione Sottoporta E sono anche sfortunati Al dodicesimo Quando è lo stesso Gualdi A centrare la traversa A due minuti dal fischio finale A chiudere la gara Ci pensa Ferretti Che sorprende Menegatti Con un tiro al volo Da 40 metri Il gol del Gubbio È l'epilogo di una partita Che fa tornare l'Alma In zona play-out Ma dà comunque I ragazzi del patron Gabellini La consapevolezza Di potersela giocare con tutti A cominciare già da sabato prossimo Quando la truppa Granata Farà visita al Pordenone Impegnato proprio in questi minuti Nel posticipo Della 14esima giornata A Modena In classifica Continua la vincente Testa a testa Tra le big del campionato Al comando ora C'è il Venezia Seguito a ruota Da Reggiana San Benedettese E Bassano Poco positivo Il weekend Per quanto riguarda Le squadre fanesi Impegnate nel campionato nazionale Di serie B Di calcio a 5 Che tutte e due Sono scese in campo sabato Contro le capolista Del girone Perde l'Alma Juventus Per 8 a 1 Nella tana Del Civitella Sicurezza Pro E perde anche l'età beta Che in casa Al circolo Tennis Trave Cede 5 a 1 Al Potenza Picena Per i ragazzi Del presidente Serafini Sempre ultimi in classifica Sabato l'occasione Per riemergere La decima giornata Di campionato Infatti Metterà di fronte I ragazzi di Barnesi Al Cus Macerata Squadra che Attualmente È al penultimo posto A più due Dai fanesi L'unico punto Della settimana Lo porta a casa Il buldo Glucrezia Del tecnico fanese Elia Renzoni Che impatta Per 4 a 4 Sul campo del Cus Ancona E resta poco sopra La zona play out Chiudiamo ora La pagina calcistica E apriamo quella Del volley Con l'impresa Della Virtus Fano Che sabato Ha sbancato Il campo di Senigallia I ragazzi Del tandem Pascucci Vichi Dopo il 25-21 Subito al primo set Impongono il loro gioco E superano i locali Con una prova superlativa Di tutto l'organico Con una particolare citazione Per Iannelli e Lucconi Grazie a questa vittoria I fanesi salgono Al quarto posto In classifica A tre punti di distanza Dalla capolista Montesi Pesaro Sono andate meno bene Le cose in campo femminile Dove l'Apav Lucrezia Rimedia un'altra sconfitta A dare una delusione Alle ragazze di Fammelume Questa volta il Montecchio Che supera il team Del presidente Emidio Cenerilli Per 3 a 1 Dalla sconfitta dell'Apav Passiamo invece ora A una bella vittoria Targata CSI e Agade Che nei giorni scorsi Hanno dato vita Al dodicesimo Memorial Eugenio Zuccarini La manifestazione Un torneo di calcio a otto E' andato in scena Al campo sportivo Di Tre Ponti Ed è stata vinta Dalla rappresentativa CSI Guidata dal presidente Marco Pagnetti Ma a vincere Sono stati Gli oltre 30 ragazzi Che tutti insieme Hanno voluto ricordare Un loro amico Eugenio Zuccarini Scomparso anni fa In un incidente stradale E a cui è dedicato Il nome dell'associazione Agade infatti Non è altro che L'acronimo di Associazione giovanile Amici di Eugenio E la pagina sportiva Di questa sera Si chiude così come era iniziata Ossia parlando di calcio Ma nello specifico Di calcio giovanile Fanone è una città Da sempre attenta Alle nuove leve E tra le tante società Presenti sul territorio Che curano i vivai Oggi vi vogliamo parlare Di una di recente costituzione La SD Carissimi Che nasce Dalle ceneri Di quella che fu La storica scuola calcio Fanella Società Da cui partì La carriera calcistica Dell'attuale capitano Dell'alma Andrea Torta Che dal Fanella Spiccò poi il volo Verso la Juventus Portare avanti i valori Della tradizione sportiva fanese Avvalendosi del ricco patrimonio Calcistico ed umano Maturato nel corso degli anni E questo è l'obiettivo Della nuova associazione Presieduta da Massimo Giuliani E stando ai numeri L'andazzo è quello giusto Sono 182 ragazzi Iscritti dai 4 ai 14 anni Che due o tre volte a settimana Si allenano al campo Del quartiere Fanella E nella struttura indoor Dello Sport Park Per entrare a far parte Di questa nuova realtà Il cui slogan è Passione, gioco e divertimento Si può contattare il numero 393-3241-166 E con i futuri campioni Della SD carissimi Si chiude la pagina sportiva Di questa sera Vi ricordiamo come sempre Che è attivo L'indirizzo internet Sport Chioccio alla fanotv.it Dove potete inviare Le vostre segnalazioni Le vostre foto E soprattutto I vostri video Per questa sera è tutto Grazie dell'attenzione L'appuntamento con lo sport Di Fano ed intorni È l'undi prossimo Buona serata E con lo sport si chiude qui Questo appuntamento Con l'informazione Grazie per averci seguito Dopo il meteo L'appuntamento con gli speciali televisivi Questa sera Ci sarà fuori brudetto Grazie per averci seguito Arrivederci a domani Grazie per averci seguito